Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Padre, ricco di misericordia, che ti riveli continuamente ai piccoli e agli umili. Ti ringraziamo per la testimonianza evangelica, che per tuo dono, ci ha lasciato San Gaspare Bertoni. Per sua intercessione. Susciti in noi i sentimenti di fiducia e di santo abbandono. Che egli apprese alla scuola di Gesù crocefisso. Concedici un raggio di quella divina sapienza. Con la quale egli guidò alla perfezione cristiana. Quanti ricorrevano al suo consiglio. Dietro il suo esempio. Facci sperimentare la gioia, di donarci per il bene dei fratelli, e per l'avvento del tuo regno. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. San Gaspare Bertoni. Pregate per noi.